Poi passa sta lumaca di merda, ti rovino tutto, scusa. Sì, il passato che doveva essere rimosso, in realtà la lumaca ha rimosso il presente e il passato è tornato fuori. Una lumaca molto pulita lei, allora, sì, è un controsenso perché lei scava nel pulito e tira fuori lo sporco. Però pulisce insomma. Pulisce il pulito. Pulisce il pulito e tira fuori lo sporco. Bisogna ricordare che sotto comunque lo sporco resta anche se si dipinge. È inutile girarci attorno e sopra, lo sporco resta. Lo schifo è una cosa tutta relativa perché in realtà magari è una cosa che fa schifo a mano, un'altra piace. Cioè, per esempio, a me la gelatina ormai se io la mangio mi viene il vomito. Eppure ci sono persone che mangiano la gelatina. Quindi? E quindi lo schifo è una condizione mentale, è tutto relativo, non è una cosa che esiste, è una cosa psicofisica. Per esempio a Fabio Guil fa schifo la gelatina anche a lui. Oppure c'è chi fanno schifo i ragni, chi fanno schifo i morti, chi fanno schifo le farfalle. E quindi sei tu la lumaca.